E niente ragazzi, dobbiamo parlare, dobbiamo parlare di una cosa Iniziamo col dire che io questo video non lo volevo fare Però, 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 però non è vero, lo volevo fare questo video Questa è una cazzata, non è vero, lo volevo fare Solo che mi sentivo stronzo, primo a non aver ancora fatto un video che si intitola Dobbiamo parlare, perché continuo a vedere video su YouTube Che si intitola così, e io non ce la faccio a non aprirli Quindi ho pensato, lo faccio anch'io E tutti iniziano con, questo video non lo volevo fare E ho detto, boh, sarà una roba che bisogna fare per forza E allora l'ho fatto Però non è clickbait, perché effettivamente dobbiamo parlare di una roba Ti volevo raccontare una cosa, un errore Che continuo a vedere fare ai clienti Che mi fa star male, mi fa un po' incazzare Poi mi fa un po' star male, un po' mi dispiace anche Mi dispiace per loro E quindi niente, dobbiamo parlare veramente Quindi non è clickbait, vedi? Alla fine, gira rigira, passiamo al posto Premessa, parleremo in questo video di rapporto fra i clienti E i web designer in questo caso Anche se non è una cosa strettamente legata al web design È una cosa che in realtà tira dentro anche altri settori Volendo, è totalmente sovrapponibile a un discorso che potrebbe fare un architetto Un graphic designer Chiunque lavori in questi ambiti qua Probabilmente anche un fotografo Insomma, è una cosa che va bene con un sacco di lavori In cui, non so per quale motivo, c'è la percezione da parte del cliente Di sapere già esattamente quello che vuole Ma soprattutto di saperlo fare meglio del fornitore E questo è un grosso problema per una serie di motivi E te ne volevo parlare, ok, di questa cosa Perché se tu entri a gamba tesa così Col tuo fornitore Che ti ripeto, può essere anche un architetto Può essere un graphic designer Quando ti sta progettando il catalogo O quello che è Va a finire che ti perdi una gran parte Del suo lavoro Che è quella che ti serviva, ok? Già perché una volta che tu Questo web designer in questo caso L'hai selezionato con cura Questo discorso ovviamente parte dal presupposto Che il tuo fornitore l'abbia selezionato con cura Non l'abbia scelto a caso, ok? Devi necessariamente partire dal presupposto Che quantomeno ha più esperienza di te E questo è fondamentale Aspetta, facciamo una piccola premessa Scusa, forse questo video non sarà proprio lineare Come gli altri Come ti ho abituato Se hai visto altri video Penso sia evidente Cerco di tenere sempre tutto bel discorso lineare In questo caso è un po' più un flusso di coscienza Che ci sono un po' di cose Adesso ne parliamo E quindi magari ci sta qualche avanti e indietro in più Però insomma fa poco male Ti dicevo premessa Non voglio partire dal presupposto Che ci sia un problema Che sia al 100% del cliente Non ti sto dicendo I clienti sono tutti stronzi I fornitori sono tutti bravi Non è così È chiaro E questo problema Anzi Ti dirò di più Nasce Secondo me Anche E magari soprattutto Dal fatto che Il nostro Sia Più di quelli che ti ho citato prima Un settore Molto sputtanato Perché chiunque domani mattina Può guardare un corso di WordPress E decidere Che inizia a fare siti internet Si apre il suo sito Si dà il nome di web designer E basta Inizia a vendere siti E questo porta al fatto Che ce ne siano tantissimi Ok E non tutti competenti Va bene Questa cosa in altre cose Succede un po' meno Ok L'incompetenza c'è in tutti i settori Però quantomeno Almeno insomma Se vuoi fare L'architetto Deve essere iscritto A un albo Così come in altri Settori Ok Anche se vuoi fare L'avvocato Insomma Devi essere laureato E devi essere E aver fatto l'esame D'avvocato Eccetera eccetera Il web designer Domani mattina Ieri Aggiustava le ringhiere Oggi inizia a fare siti internet Questo fa sì che Ce ne siano tantissimi E non Figurati Non me ne frega niente Va bene così Nel senso Dal mio punto di vista Non cambia niente Dal punto di vista del cliente Un pochettino cambia Perché giustamente Lui magari spesso Non ha le competenze Per scegliere In maniera corretta E allora Gli ne viene consigliato uno Da un amico Non perché Ne conosca l'operato Ma perché Semplicemente Sa che quello fa siti internet Te lo passa E quindi Buona Oppure lo cerchi su Fiverr Oppure lo cerchi su Insomma Arrivano Capito Spuntano Sti web designer Come i funghi Così capito E quindi cosa succede Questo porta al fatto che Si creino tante situazioni In cui Poi c'è un cliente Insoddisfatto Ok E questa cosa Io mi rendo conto Che chiunque Abbia per lavoro Dovuto fare un sito web Almeno Uno o due siti web Magari per le varie attività Per cui ha lavorato E di esperienze negative Ne ha avute tante Ok Mi accorgo È sempre un ciclo Ok Mi arriva gente Continua a dire Guarda io però Ho avuto brutte esperienze Guarda io Ed è un problema Perché è una situazione Che capisco Che mi dispiace Però mi rendo anche conto Che non posso io Accollarmi le colpe Derivanti da qualcosa Che è successo Per colpa di qualcun altro Ok Cioè se il web designer Prima non era capace E ti ha fatto una merda Capisci che adesso Il problema Non può diventare mio E quindi Tu nel dubbio Non mi vuoi Non vuoi pagare un anticipo Vuoi lavorare In delle condizioni Che sono particolari Standomi qua dietro Controllando ogni cosa Che faccio E non ti fidi E vuoi mettere bocca In tutto quello che facciamo Diventa un lavoro di merda Ma non soltanto Perché è brutto Lavorare in queste condizioni Perché è quello Ci passiamo sopra Diventa un lavoro di merda Perché se tu ti metti in testa Di poter fare una cosa Che non hai mai fatto Nella tua vita Meglio di uno Che invece la fa ogni giorno C'è un problema Capito? Questa cosa Non può essere vera Ok? Perché quantomeno C'è un'esperienza diversa C'è uno studio diverso Poi Torniamo al punto iniziale C'è uno studio diverso C'è un'esperienza diversa Se il professionista Che hai scelto Ce l'ha questa esperienza Ed è comprovata Esiste Se siete allineati anche A livello di scelte A livello di idee Ovviamente Ovviamente Perché ti dicevo prima Questa cosa funziona anche In altri settori Se io scelgo un architetto Per arredarmi casa Che ha delle necessità Totalmente diverse Dalle mie E dei gusti Totalmente diversi Dai miei E mi propone qualcosa Che non mi piace esteticamente Che a livello funzionale Per me non va bene Perché mi sta facendo Tutto iper delicato E io ho sei bambini E quattro cani Siamo d'accordo Che ok Abbiamo un problema Ma nel momento In cui siamo allineati Lui capisce le mie necessità Perché me le ha chieste Anche questa è una cosa Che succede Se il tuo web designer Non ti coinvolge Nello sviluppo del tuo sito C'è un problema Ok? Deve essere così Ok? Quindi quando lo scegli Mi raccomando Sceglilo anche sulla base di questo Ci deve essere questo scambio Per quello ti dicevo prima So bene che non è Interamente colpa tua So bene che non è Interamente colpa mia Insomma del settore Però certamente Quello che puoi fare tu Sono due cose Scegliere un web designer Di cui ti fidi E di cui ti piace Quello che hai visto E quindi ti senti In condizione di poter andare avanti E dargli tutta questa fiducia Lasciandolo lavorare Nel pieno delle sue potenzialità Perché è così che ti può dare Quel valore aggiunto Che altrimenti Non avresti Dall'altra parte Che cosa posso fare io? Sicuramente lavorare Bene Ok? Quindi coinvolgerti Capire le tue necessità Non andare per conto mio Ah ma io voglio fare un sito così Perché devo metterlo in portfolio Allora lo faccio così Questa è una roba Da stronzi Non dovrebbe farla nessuno Purtroppo so che succede Oppure io la so fare così Te la faccio così E me ne fotto di quello Che mi hai chiesto tu Oppure io ho poco tempo Voglio fare in fretta Per portarmi i soldi a casa E me ne vado via Ok Quello che deve fare il web designer È lavorare con etica Per bene E cercando di fare il tuo interesse Queste sono le due cose Che devono succedere Perché tutto funzioni bene Però Dall'altra parte appunto Ci sono dei ruoli E vanno rispettati Altrimenti Non ci sono le condizioni Per poter lavorare bene Questa cosa Mi rendo anche conto Che certe volte Viene fatta Quando si vuole risparmiare budget Ok Mi capita di sentirmi dire Guarda facciamo così Questa parte qua Te la faccio già avere io La grafica la togliamo Il wireframe Non lo facciamo Lo faccio io Te lo faccio avere io Questa cosa Uno la può anche accettare Ci sono dei problemi Però in tutto questo Secondo me Ti stai perdendo al meglio Stai buttando via Interamente il budget Perché Quello di cui hai bisogno È il know-how Del tuo web designer Non il tempo Del tuo web designer Ok Ti conviene fare il contrario Vuoi risparmiare budget? Ok Piuttosto Chiedi di fornirti Un wireframe Fatto per bene E vai avanti da solo E impara a fare l'altra metà Perché è più facile fare quella È più facile Imparare a usare WordPress Per quelle quattro funzioni Che ti servono Compararti un corso Online O guardarti un tutorial Su YouTube E fare tu quella parte E investi qualcosina Piuttosto nel farti fare un wireframe Nel fare una consulenza Guarda Ti dico Non voglio venderti niente Ma In un'ora Piuttosto Facciamo una consulenza E ti Svolto Di più Il sito Di quanto Possa fare Tu con tutte le tue conoscenze Ma non perché sono un cazzo di genio Perché è il mio lavoro Ok Io questa cosa La faccio ogni giorno E il valore aggiunto Che ti posso dare È lì Non è nell'installare WordPress E metterci quattro cazzo di plug-in E il problema Me ne rendo conto È che spesso Questa cosa viene confusa E non è neanche colpa tua Perché Nel momento in cui Il mercato ti dice Che il web designer È quello che installa WordPress E ci mette un plug-in E ti chiede che cosa Ci vuoi mettere dentro Eh salta tutto Salta tutto Però Come ti dicevo Quella forma mentis Deve cambiare da parte tua anche Cioè Se non succede questa cosa Quindi che non vieni coinvolto Che non ti senti Di avere la piena fiducia Di chi è davanti Del professionista Che è davanti La soluzione Non è cercare di prendere il controllo E fare tu Perché così Tu lo farai meglio Ok È Cambiare fornitore È Purtroppo è così E Altra cosa Perché questa cosa Allora Facciamo un altro passo indietro Devo anche ammettere Che da un bel po' di tempo Questa parte Questa cosa mi succede molto meno Ok Però l'ho vissuta in prima persona Tanto Quanto Non avevo il canale E quindi la gente che arrivava Non mi conosceva già Ok Ora mi rendo conto Quando mi arrivano i clienti Ho già conquistato Più o meno La loro fiducia E questa cosa È effettivamente Un salto di qualità A livello lavorativo Però non sono l'unico Porca miseria Sì io non voglio star qua Giustamente A fare A star qua A fare le marchette per gli altri Però non sono l'unico Scegli qualcuno Di cui ti fidi Te lo ripeto Per l'ennesima volta Scegli qualcuno Di cui ti fidi E che Quando ti racconta Come svilupperà Il tuo progetto Non ti dica soltanto Sì scegliamo un tema E installiamo Wordpress E in due settimane Siamo fuori Il tuo sito È tutto quello Che c'è prima E ancora una volta Tu Fidati di me Non lo sai fare Sai tante cose Che devono finire lì in mezzo E il web designer Te le deve chiedere In tutta la prima parte Dei progetti Passo un sacco di tempo In call Con i clienti Proprio per parlare Di quelle cose Facciamo delle lunghissime call In cui Ti chiedo Come funziona Il suo lavoro E insieme Strutturiamo quella parte Ma l'apporto Del tuo web designer In quel lavoro È quello di metterci Tutte le cose Che tu Non sai Ok Dove mettere Una call to action Che tipo di immagine Mettere Come strutturare I contenuti In modo che il sito Converta Quella roba È una scienza E non si impara Dal nulla Quindi A meno che tu Non l'abbia già studiata E già fatta prima Anzi non solo studiata Studiata e messa in pratica E testata Su tanti progetti Non la sai fare Ti devi fidare Del tuo web designer E niente Direi pippotto finito Oggi il video così Te lo becchio Perché sono sempre Tutte rose e fiori Certe volte ti becchi La cazziata Così gratis E te la porti a casa Va bene E niente Noi ci vediamo Al prossimo video E nulla Ciao